Le combinazioni vincenti della Teresina sono identiche a quelle del poker, anche se come si vedrà in seguito, le procedure per la loro formazione sono totalmente diverse. Facciamo un esempio. Nella Teresina, a differenza del poker classico, il colore batte il full. Per esempio, il primo giocatore ha un full composto da un 3D8 e da una coppia di re. Il secondo giocatore ha il colore, formato da 7, 9, jack, re e asso di cuore. Facendo conto della gerarchia dei semi e soprattutto del regolo della Teresina, il colore batte il full.